Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati a Di Prima Mattina, appuntamento di mercoledì 11 dicembre, anche quest'oggi con il nostro spazio d'apertura della nostra giornata informativa, con la rassegna stampa, come ogni giorno andremo a leggere le notizie dai quotidiani locali, regionali, in compagnia di un ospite che commenterà con noi le notizie del giorno e quest'oggi do il benvenuto alla collega, giornalista Marianna De Troia. Buongiorno Marianna. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Benvenuta, benvenuta Marianna che è addetto stampa del comune di Rosetto degli Abruzzi, ovviamente giornalista dunque, insomma, comunque sempre dentro alle notizie e ai fatti. Quindi ci troviamo. Avremo modo insomma di parlare di diversi aspetti, di diverse tematiche perché ci sono vari argomenti all'ordine del giorno, se vogliamo utilizzare un linguaggio istituzionale burocratico. E dunque direi subito di andare a vedere le prime pagine, i titoli d'apertura, le prime pagine dei quotidiani, iniziando con la prima pagina del quotidiano Il Centro, che vediamo subito alle nostre spalle nel monitor, grazie alla regia con Pietro Baldassare questa mattina ai comandi. Il titolo è Acqua, maxi bollette e proteste. Parliamo ovviamente del ruzzo, delle bollette del ruzzo. A Teramo arrivano gli aumenti annunciati, per molti stangate da oltre 200 euro. Questa è la situazione che si sta verificando insomma nelle case dei terramani in questi giorni con le nuove bollette del ruzzo. Sì, era un tema che diciamo del resto diciamo era stato già anticipato nei mesi scorsi, anche diciamo se mi sembra che il ruzzo proprio in queste ore abbia avuto modo di chiarire, di spiegare le motivazioni, che diciamo questi aumenti non sono stati applicati diciamo proprio dalla società ruzzo, ma erano già previsti dall'area dell'autorità diciamo per l'energia e l'ambiente e che quindi scattano adesso con i conguagli per cui diciamo il conteggio prevederà questi aumenti che erano stati applicati. Arriva tutto insieme, in questa fase, il che ovviamente non è simpatico per i consumatori, per gli utenti, perché ovviamente sono in alcuni casi soprattutto bollette pesanti, ma approfondiremo la notizia tra un po'. Rimaniamo sulla prima pagina del centro, c'è la fotonotizia centrale con la protesta a Roma degli operatori delle pulizie nelle scuole che sono stati riassunti con meno soldi, questo è il motivo della protesta di questi lavoratori precari che appunto insieme a quelli del resto d'Italia hanno manifestato a Roma, nella foto vediamo i rappresentanti sindacali della Filcams CGL in rappresentanza appunto del personale terramano impiegato nelle pulizie nelle scuole, i cosiddetti appalti storici o ex LSU. La protesta è contro il bando del Ministero che assume a tempo pieno solo 89 unità e 178 part-time. 19 persone rimarrebbero invece fuori dalla stabilizzazione, dall'assunzione insomma. Sono temi caldi, tra l'altro questa mattina se non vado errato proprio sul tema ci sarà un sit-in da parte dei sindacati di base davanti all'Inps di Teramo. Altri titoli sempre dalla prima pagina del centro, Martinsicuro, il Grillo chiede 28 milioni al comune, insomma una bella cifra. Parte l'azione risarcitoria della proprietà del centro commerciale, anche qui una vecchia questione giudiziaria che si trascina ormai da tanti anni per quanto riguarda il centro, questo centro commerciale appunto a Martinsicuro. Sono cifre che per i comuni piccoli sono impattanti insomma. Assolutamente sì. Ancora i titoli di cronaca, qui parliamo di trasporti o meglio della società dei trasporti abruzzese, la tua, che rischia una maximulta, dopo un'indagine dell'autorità di regolazione appunto dei gestori dei trasporti, rischia una sanzione la tua per il mancato adeguamento della carta dei servizi al regime degli indennizi. Una questione abbastanza tecnica, comunque c'è un rischio maximulta per la società di trasporti unica abruzzese. Questo invece è un titolo insomma preoccupante ma che conferma un andamento ormai noto, lo spopolamento delle aree interne del Terramano in particolare, ma è un fenomeno che riguarda l'intero territorio nazionale. Per quanto riguarda lo studio sul Terramano, uno spopolamento senza fine, così viene indicato nel titolo del centro, da fine 2016 al giugno di quest'anno i residenti nei comuni dell'entroterra sono diminuiti del 4,4 per cento e non conta questa diminuzione, come dire, gli effetti del sisma perché gli sfollati del casso comunque la residenza devono mantenere nei comuni di appartenenza e quindi nel conto non ci sono nemmeno loro, quindi evidentemente poi sono di più. Però direttore, mi permetto di far osservare un'altra notizia invece carina che può contraltare questa. C'è stato uno studio del professor Serafini, diciamo noto docente dell'Università di Terramo, insomma tra l'altro anche tra i migliori diciamo scienziati al mondo, che ha rilevato proprio come diciamo nelle aree interne terramane diciamo ci sia un fenomeno di longevità, si vive di più rispetto a tanti altri territori italiani e in merito di questo sembra essere proprio insomma la buona alimentazione del territorio, quindi ecco c'è lo spopolamento ma insomma c'è anche tanta longevità nelle aree interne per cui insomma rimaniamo nei territori interni. Se vogliamo fare una battuta forse perché c'è anche più spazio, quindi litigano di meno forse perché ci sono meno persone nelle aree interne, però il fenomeno è sicuramente preoccupante e poi all'interno vedremo anche i dati più nel dettaglio. Per chiudere sempre con le aree interne, parliamo di montagna proprio in questo caso, ai prati di Tivo arriva la neve ma non si può ancora sciare innanzitutto perché insomma il manto nevoso non è ancora sufficiente ma poi perché ci sono anche alcuni problemini di gestione tecnica con i cannoni appunto che innevano le piste da sci ma capiremo meglio tra un po' quando andremo ad approfondire l'articolo di cosa si tratta. Adesso passerei invece alla prima pagina del quotidiano La Città che dedica l'apertura alla cronaca giudiziaria badante violenta a processo, questo è il titolo, picchiava, umiliava e vessava una nonnina terramana di 92 anni che non poteva difendersi, una storia drammatica che è finita in un'aula di tribunale, quella appunto del tribunale di Teramo per questa badante violenta. purtroppo insomma a volte se ne sentono troppe di queste storie. E che ripropone anche il tema diciamo sull'improvvisazione magari di queste professionalità dove c'è anche una deregulation insomma significativa e che andrebbe in qualche modo disciplinata, canalizzata e formata perché comunque insomma queste sono professionalità a contatto con insomma persone fragili per cui è un tema che ci si dovrebbe porre. Assolutamente sì, si parla di neve anche qui sulla prima pagina della città, prima nevicata appalto degli spazzanevi in ritardo, in questo caso l'accento è puntato appunto sul piano neve della provincia di Teramo che ieri insomma ha sollevato delle polemiche tra l'opposizione e l'amministrazione provinciale. La fotonotizia invece riporta questa sorpresa che ieri abbiamo vissuto anch'io in prima persona che ero presente al Bonolis nella consueta conferenza stampa di inizio settimana dei calciatori del Teramo. A un certo punto si è materializzato Giovanni Galeone, storico allenatore del Pescara con la doppia promozione in Serie A, grande amico di Andrea Iaconi, l'attuale general manager del Teramo. Era appunto al Bonolis in visita al Teramo e si è soffermato con i giornalisti, lo vedete nella foto, proprio al posto insomma che occupano di solito i calciatori per le conferenze stampa, in sala stampa e c'è stata una piacevole chiacchierata sul calcio di ieri e di oggi. Una marcord. Esatto, una vera e propria marcord con Giovanni Galeone, il titolo della città è il maestro porta gol, si spera, più che altro è un auspicio perché effettivamente il Teramo quest'anno sta venendo col contagocce, è un po' un problema di scarsa prolificità in attacco e quindi speriamo che la presenza di Galeone che del gioco offensivo ha fatto il suo credo possa portare bene al Teramo calcio. Gli altri titoli sempre dalla prima pagina della città, Regina Margherita, è tutto fermo, siamo a Teramo dove il comune ha ottenuto l'area dall'ASP tre mesi fa ma poi insomma ancora non se ne fa nulla di quell'area importante nel cuore del centro di Teramo. Vedremo poi anche in questo caso l'articolo cosa ci dice. Di spalla l'intervista ad Enrica Bonaccorti, una dei protagonisti della notte dei faugni ad Atri, che insomma la Bonaccorti ha apprezzato questo antico rito e questa notte di festa ad Atri e l'altro grande protagonista è stato Giancarlo Giannini, entrambi impegnati nel teatro comunale di Atri proprio la sera del 7 dicembre sabato scorso. È un apprezzamento che ci fa piacere anche perché insomma la tradizione della notte dei faugni è insomma una bella iniziativa a cui sono legati da anni gli altri anni. Assolutamente sì, certo. Per la politica regionale ieri c'è stata una giornata importante perché c'è stato il Consiglio regionale, poi c'è stata una seduta della Giunta, una seduta straordinaria che tra l'altro ha dato il via libera al bilancio che si attendeva insomma da tempo, però a tenere banco ancora il caso Paolo Gatti, ecco il titolo della città, la designazione di Gatti rischia di arenarsi, designazione alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti, se ne è parlato ampiamente, se ne è dibattuto proprio nel Consiglio regionale di ieri con vari interventi, forse il più centrato, il più tecnico e quello più efficace è stato quello di San Ramarcozzi, la capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha spiegato dal suo punto di vista perché appunto la designazione di Gatti pare essere illegittima, comunque non del tutto regolare da un punto di vista della forma. Ne parleremo Marianna perché poi ovviamente spieghiamo leggendo gli articoli dei giornali quali sono le motivazioni adotte proprio da Sara Marcozzi, cercheremo di capire qual è la situazione, cioè diciamo politicamente comunque, questa notizia che tra l'altro era nell'aria insomma, era stata anticipata, è esplosa in questi giorni portandosi dietro tutto il carico di polemiche. Sì, anche se francamente appaiono polemiche un po' tardive, o comunque una foglia di fico alle prese di posizione politica, perché comunque che la nomina di Paolo Gatti fosse nell'aria era risaputo da tempo, quindi eventualmente c'era tutto il tempo, qualora si volesse voluto, di agire politicamente sulla questione, evidentemente quindi il nocciolo non era proprio questo, quindi forse tutto è scoppiato dopo quando si è saputo il nome di Paolo Gatti, il che fa pensare anche a qualcosa un pochino di personale, di viscerale che comunque non fa bene alla politica tutta, ma ripeto secondo me il tema è un altro, è una nomina politica e la politica aveva il tempo di agire politicamente prima per ostacolare eventualmente avesse voluto qualcosa, se non lo ha fatto è perché evidentemente non voleva farlo, quindi adesso queste prese di posizione sembrano più come dire un gioco delle parti che altro. Vedremo insomma appunto perché comunque anche ieri è continuato come dire, è continuata la fibrillazione sia all'interno della maggioranza stessa in regione sia ovviamente da parte dell'opposizione. Chiudiamo con la prima pagina, gli ultimi due titoli della prima pagina della città, a Tortoreto, via libera da parte del Consiglio Provinciale, a nuovo piano regolatore generale, uno strumento comunque molto atteso per l'organizzazione urbanistica della città di Tortoreto, poi invece per quanto riguarda Giulia Nova, bilancio, eventi e opere pubbliche, Costantini, iperattivo e consapevole, è bello questo titolo, insomma se non fosse consapevole sarebbe grave, e ieri è stato ospite di J Live nel pomeriggio di Super J, Ivan Costantini, ospite della trasmissione condotta da Dorotea Mazzetta, si è parlato di vari argomenti, in primis anche lì del cartellone natalizio che è molto ricco e variegato quest'anno. Abbiamo chiuso con la prima pagina del quotidiano della città e andiamo dunque a terminare il nostro primo giro con il messaggero, l'edizione abruzzese, si parte in apertura con Pescara, arrivano 350 telecamere, la città sarà super sorvegliata, via alla gara europea da 1.400.000 euro, spy cam anche nelle scuole, la control room nel comando della polizia municipale, tanti comuni adesso sono sensibili al tema perché comunque gli atti di vandalismo e della microcriminalità in crescita comunque preoccupano, si fanno sentire, c'è una percezione diffusa tra i cittadini di scarsa sicurezza e il tema delle telecamere è diventato particolarmente attuale ma anche in casa nostra perché insomma leggevo tempo fa appunto si sta attivando il comitato, Roseto lo ha fatto. Anche perché ci sono tanti finanziamenti a disposizione, quindi i comuni ne approfittano. Ci sono finanziamenti previsti dal decreto Minniti per cui insomma i comuni non si stanno lasciando sfuggire a queste opportunità, la stessa Roseto diciamo qui vicino da noi ha agito in tal senso e ha installato le telecamere proprio da qualche mese. Poi c'è chi le vuole anche nelle scuole così come a Pescara, se ne è parlato anche a Teramo come una mozione che però è stata respinta in consiglio comunale, la mozione era stata presentata da Luca Corona ma appoggiata anche dal vice sindaco Maria Cristina Marroni, mozione respinta, insomma lì c'è da ragionare un po' di più c'era da ragionare, capisco anche che l'utilità ma anche come dire l'opportunità insomma delle telecamere all'interno delle scuole. Capisco anche che politicamente può essere antipatico diciamo no far vedere perché pare anche una sorta di atto di sfiducia verso un corpo docente quando in realtà probabilmente una buona comunicazione potrebbe anche veicolare che insomma massima fiducia nel corpo docente insomma ma il tema è un altro però certo è sicuramente molto sentito. Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano il messaggero Abruzzo prima dei titoli di sport segnaliamo per la politica il fenomeno delle sardine che è venuto fuori anche in Abruzzo con la prima manifestazione di piazza di sabato scorso a Pescara e adesso sembrano pronte le sardine a tornare ancora in piazza ma a Roma il 14 dicembre dunque sabato prossimo un movimento insomma che si sta diffondendo sempre di più forse questi movimenti almeno per come la vedo io trovano vita facile anche per come dire l'assenza della politica quella dei partiti no? Che lasciano ampio spazio alla società civile di organizzarsi autonomamente per poi vedere dove andranno a parare alla fine no? Questo è bene perché ecco ne fanno diciamo trovano terreno fertile per una rapidissima crescita non so quanto poi possa essere fertile la longevità proprio in assenza di una struttura politica poi dietro purtroppo. Per lo sport anche il messaggero mette in risalto la visita di Giovanni Galeone ieri allo stadio Bonolis di Teramo arriva Galeone per incoraggiare Andrea Iaconi è di riflesso tutta la società e tutto l'ambiente del Teramo Calcio. Chiudiamo insomma dalla prima pagina del messaggero con un'ultima segnalazione per quanto riguarda i trasporti treni nuovi vagoni e conferma delle tratte da domenica entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia valido sarà valido fino al 13 giugno insomma in Abruzzo ci saranno anche nuovi frecci argento e quindi miglioreranno i collegamenti sulla dorsale adriatica e questa è una buona notizia per i viaggiatori sia per motivi di lavoro sia per motivi di svago che è la vigilia del ponte di Natale dei ponti natalizi insomma sono belle notizie. Assolutamente sì allora queste erano le prime pagine dei quotidiani torniamo indietro facciamo un passo indietro torniamo sul centro iniziamo allora proprio con le notizie dalla regione e siamo ovviamente la questione al caso chiamiamolo così gatti un cavillo dallo stop alla nomine questo il titolo del resoconto che fa il centro della giornata politica di ieri all'aquila colpo di scena in consiglio regionale marcozzi scova l'articolo che chiude le porte della corte dei conti sospiri prende tempo il presidente del consiglio regionale tra i vari provvedimenti discussi in consiglio regionale anche la nascita dell'agenzia della protezione civile ma rimaniamo sul caso gatti cerchiamo di spiegare esattamente quello che è successo sì la marcozzi si è appellata all'articolo 142 insomma del regolamento del consiglio regionale che tra l'altro si chiama appunto proprio nomine e designazioni diciamo il discrimine proprio nella categoria sulla categoria diciamo nomina o designazione in questo caso dobbiamo ricordarlo si tratta di una designazione perché poi la nomina aspetta il presidente della repubblica aspetta il presidente della repubblica infatti la marcozzi sollevava la questione relativamente al fatto che sarebbe dovuto essere il consiglio regionale a designare paolo gatti anche se diciamo nei corridoi della politica ieri si sussurrava che un articolo successivo del regolamento regionale che quello diciamo immediatamente sotto quello evidenziato diceva che appunto la designazione diciamo può avvenire anche da parte del presidente del consiglio se c'è l'accordo diciamo dei capigruppo e sembra che in fase di redazione di bando non vorrei sbagliarmi però ecco nei corridoi della politica ieri si sussurrava questo dei rumors diciamo freschi che sembra appunto che in fase di redazione del bando sospiri sia stato proprio come dire indicato per le nomine delegato sia per le nomine che per le designazioni quindi anche nel caso questo sarebbe stato superato dovrebbe verificato però ecco ripeto fa sorridere un pochino diciamo questo tema diciamo incentrato sulla persona di paolo gatti perché la politica credo che farebbe bene interrogarsi diciamo se se proprio si deve interrogare debba farlo sull'opportunità delle nomine diciamo politiche in magistratura e se proprio deve farlo penso che il ragionamento deve essere complessivo anche su altri diciamo a livello nazionale perché insomma più che sulle articolazioni territoriali perché è una nomina politica la prerogativa è ovvio che il caso stia facendo nascere come dire delle questioni politiche non tanto politiche personali sono una figura comunque importante del panorama politico regionale quello che forse fa più specie insomma non sono tanto le polemiche da parte dell'opposizione che fa il suo lavoro ed è giusto anche che fa il gioco delle parti ma della maggioranza perché poi le fibrillazioni le tensioni all'interno della maggioranza con la spaccatura proprio tra una parte della lega e una parte di forza italia e poi invece i vertici della regione cioè marsilio e sospiri che hanno voluto questa designazione di paolo gatti ma ripeto sembrano pretestuose oggi perché i rumors si rincorrevano da tempo per cui l'azione politica o anche malpancismi potevano essere evidenziati in altre fasi in altri seduti del consiglio regionale ciò non è stato fatto quindi è evidente che oggi c'è un gioco delle parti di difesa diciamo politica per diciamo che si sta facendo per non perdere la virginità politica però intanto diciamo gli stessi consiglieri che oggi attaccano questa cosa va ricordato insomma che gli emolumenti se ci vogliamo proprio concentrare su questo è poco meno di un consigliere regionale insomma l'emolumento che spetta in questo caso ma ripeto circa 200 mila euro l'anno 180 mila euro lordi credo ok sì però 15 mila e qualcosa al mese però insomma ripeto bisogna ragionare sull'opportunità delle nomine in politica e il caso palamara del csm no è emblematico diciamo subito dopo l'estate bisogna ragionare su altro peraltro credo che in italia non stiamo nemmeno messi tanto peggio direttore perché mi risulta che ad esempio già nel 2017 trump in america avesse chiesto insomma dopo il suo senzillamento a 46 procuratori di dimettersi perché in america gli sheriff e i procuratori vengono eletti quindi insomma stiamo messi insomma tutto sommato meglio o diciamo ogni ogni stato ha le sue regole alle sue particolarità quindi ovviamente fa parte insomma dello spoilsiste perché poi in questo caso insomma non è stato nemmeno destituito nessuno in abruzzo non è stato nemmeno esatto perché insomma è una nomina come dicevamo appunto di carattere politico in realtà c'è chi ha posto l'accento sul fatto che non essendo neanche obbligatoria diciamo come nomina si potrebbe anche soprassedere come è stato anche già fatto in passato nel frattempo per insomma capire come stanno le cose quindi ieri durante il consiglio sarà marcozzi ha preso la parola per porre all'attenzione questa problematica di natura procedurale appunto per quanto riguarda la differenza tra nomina e designazione il presidente sospiri per il momento insomma ha dichiarato di voler approfondire la questione rimandando tutto alla prossima riunione dei capigruppo e quindi insomma lì si vedrà forse che tipo di strada prenderà questa designazione da parte del presidente del consiglio regionale insomma il centro si sofferma attentamente sulla questione spiega cerca di spiegare anche proprio tecnicamente cosa prevede il regolamento del consiglio regionale ma non è stato l'unico argomento all'ordine del giorno dopo il consiglio regionale c'è stata una seduta straordinaria della giunta presieduta dal presidente marco marsilio di rientro dagli stati uniti e in questa seduta di giunta c'è stato l'approvazione è arrivato il sì al bilancio di previsione il titolo sempre dal quotidiano il centro la lega cede le armi sì al bilancio la giunta lo approva e cestina le 18 proposte del carroccio portate da dorazio tra l'altro si sottolinea nell'articolo come dire la particolarità la stranezza che erano stati presentati degli emendamenti da benigno dorazio quindi non da un rappresentante istituzionale della lega ma da un politico che tra l'altro si è riavvicinato alla lega negli ultimi tempi perché lui si era schierato apertamente a favore della candidatura di giovani legnini alle ultime elezioni in polemica con la candidatura di marco marsilio tra l'altro da parte degli ambienti romani comunque alla fine insomma la lega che pareva volesse dare battaglia proprio sul bilancio anche per una questione legata appunto alla nomina di gatti e tutto quanto il resto insomma quindi una sorta di gioco di forza da parte della lega però poi non approvare al bilancio delle conseguenze comunque pesanti quindi insomma immagino appreverso il buon senso e quindi bilancio approvato in giunta passerà all'approvazione del consiglio pare comunque anzi sicuramente entro la fine dell'anno sempre voltando pagina ma rimanendo in abruzzo questa notizia che ritrovavamo già in prima pagina trasporto pubblico rimborsi la tua rischia una maximulta sanzione di un milione 200 mila euro la società della regione finisce nella lista nera dell'autority per di pasquale cioè il direttore generale della tua ovviamente la previsione di un'opposizione a questa sanzione dell'autority per quanto riguarda rimaniamo in tema di viabilità e trasporti il caos sulla 14 pedaggi ridotti la regione dice sì caos dovuto ovviamente ai noti ormai tristemente noti sequestri dei viadotti sulla 14 l'emiciclo approva la mozione a firma di sandro mariani è stata approvata ieri all'unanimità per chiedere appunto a ministero e società concessionaria cioè società autostrade di ridurre i pedaggi in alcuni casi si parla anche di sospensione addirittura del pagamento dei pedaggi finché non ci sarà uno sblocco della situazione quindi una revoca dei sequestri dei viadotti che soprattutto appunto sulla dorsale adriatica abruzzese sta creando molti problemi l'ultimo in casa nostra appunto è il sequestro del casello di roseto su cui diciamo tra l'altro è stato convocato anche un tavolo domani pomeriggio domani pomeriggio domani pomeriggio alle 17 sì esattamente un tavolo istituzionale con varie figure allora noi dobbiamo fermarci siamo arrivati alla pausa perché è il momento di andare a vedere che tempo farà oggi visto che questa mattina ci siamo svegliati con un bel gelo però oggi dovrebbe migliorare rispetto a ieri allora andiamo a vedere le previsioni del tempo di marco di loreto poi dopo una brevissima pausa torneremo con la seconda parte di di prima mattina un saluto da marco e ben ritrovati per un nuovo appuntamento meteo dopo il passaggio perturbato di ieri sta tornando il bel tempo oggi infatti c'è lo sgombro da nuvole in buona parte della penisola solo al sud insiste ancora nuvolosità irregolare con qualche residuo a precipitazione al nord in serata prima nuvole ad annunciare l'arrivo di un nuovo impulso freddo nord atlantico in abruzzo come si nota bene dalla mappa previsionale ci attende una giornata irregolarmente nuvolosa al mattino ma in ulteriore miglioramento dal pomeriggio sera la ventilazione insisterà dai quadranti settentrionali ed i mari saranno ancora molto mossi anche se con moto ondoso in attenuazione per ciò che riguarda le temperature sebbene il sole sarà una giornata molto rigida con massime comprese tra 3 e 9 gradi con l'arrivo del tramonto crollo termico repentino in buona parte della regione gelate diffuse nella notte le minime saranno comprese tra i meno 6 meno 7 gradi delle conche aquilane i 3 4 gradi delle zone costiere buona giornata a tutti voi eccoci di nuovo insieme ben ritrovati riprendiamo dunque la nostra segna stampa qui a di prima mattina quest'oggi insieme a marianna de troia collega e addetto stampa del comune di roseto stiamo leggendo le notizie concentrandoci diciamo sulle vicende regionali spostiamoci sul nostro territorio continuiamo sempre dal quotidiano il centro della prima pagina che abbiamo già letto prima abbiamo visto insomma diversi temi da affrontare allora andiamo subito sulle pagine dedicate a terame province eccoci qua e l'apertura della sezione appunto dedicata a terame province su questo fenomeno dello spopolamento dell'entroterra l'articolo titola l'entroterra si spopola sempre di più esodo verso la costa residenti in calo del 4,4 per cento dal 2016 crollo a castilenti fano e castelli tra le attività male manifatturiero e commercio a commentare i dati ed esporli e il presidente della camera di commercio gloriano lanciotti che insomma come ricetta come soluzione suggerisce da sostenere le imprese dei giovani e i servizi sono tanti appunto i temi affrontati in quest'articolo eccola la tabella che riassume i dati in calo dappertutto nei comuni dell'area montana terramana il periodo ricordiamo preso in considerazione quello dal giugno 2016 al giugno 2019 come vedete insomma il totale del meno 4,4 per cento sono punte più evidenti addirittura vedo castilenti quasi il 10 per cento ha perso il 9,7 per cento di residenti cioè in termini assoluti sono 146 pochi ma tanti per un comune che fa 1500 abitanti e poi tanti altri brava colonialeto fanadriano sopra l'8 per cento che ha inciso tanto proprio nei comuni più colpiti certo rimane stabile esattamente identica è curioso la quota residenti di penna sant'andrea 1698 tre anni fa e 1698 oggi però penna è già meno entroterra diciamo così e poi c'è anche il valvomano insomma che è un centro ormai in grande espansione però insomma sì il tema è sicuramente sentito bisognerà che anche la politica trovi delle soluzioni per bloccare l'esodo per bloccare l'esodo andiamo avanti sempre su teramo il caso delle bollette del ruzzo raffica di proteste per gli aumenti molti cittadini hanno ricevuto conti superiori a 200 euro è la prima fattura che calcola tutto il consumo dell'acqua come dicevamo Marianna è la prima fattura in cui si applicano le nuove tariffe della rera si diciamo che non ha applicato va detto il ruzzo lo ha spiegato insomma in molti modi sta continuando a farlo perché insomma devo dire è la nuova governance anche caratterizzata da una nuova forte impronta comunicativa e ha avuto modo di spiegare attraverso comunicati attraverso i social ma anche attraverso il sito istituzionale del ruzzo perché queste bollette salate certo lei mi dice insomma alla fine in fin dei conti i cittadini no ricevono la bolletta salata certo o giusta la puntualizzazione insomma non sono aumenti applicati dal ruzzo ma dall'autorità per l'energia però certo insomma capisco che i cittadini insomma in fin dei conti non stanno a guardare chi e come si ritrovano davanti la bolletta salata e vogliono capire il perché quantomeno montagna arriva la prima neve ma gli impianti dei prati non possono aprire i cannoni restano fermi perché non c'è l'acqua eccolo il motivo per cui non sono ancora in funzione scoppia la polemica intanto in provincia sul ritardo della gara per il piano neve mi sembra anche insomma abbastanza ciclica questa la polemica e i problemi sulla montagna con le prime nevi insomma con le prime nevi ci sono le prime polemiche sempre insomma sul tema della montagna che una volta per tutte andrebbe affrontato questa è la webcam in tempo reale giusto pietro è in tempo reale ed è prattivitivo la situazione attuale è prattivitivo non mi pare che nevichi in questo momento si vede insomma che l'accumulo a terra è abbastanza ridotto della neve anche se abbastanza chiuso più in alto quindi probabilmente anche in questi giorni si potrà avere qualche nevicate importante e magari appena pronti insomma si potrà tornare anche a sciare ai prattivitivo però c'è questo problema dei cannoni che voglio capire meglio insomma di cosa si tratta sempre dell'articolo del centro i cannoni sparaneve si legge fatti riparare dalla Gran Sasso di Ramano ancora non possono essere attivati per le temperature non ancora idonee si spiega ma soprattutto perché manca l'acqua per farli funzionare proprio quest'anno infatti è scaduta la trentennale concessione con la SEA per l'allaccia all'acqua e si attende il rinnovo che tardi ad arrivare per motivi burocratici insomma anche in questo caso probabilmente si paga la situazione di difficoltà della Gran Sasso di Ramano società in liquidazione che deve far fronte a tanti problemi che però ha messo in sicurezza gli impianti quest'anno partiranno anche gli Obelix, i famosi sistemi antivalanghe quindi appena ci sarà la neve praticamente tipo quest'anno si scia insomma questo è il succo andiamo avanti ancora il lavoro pulizie a scuola, personale riassunto a orario ridotto le addette sfidano a Roma con la Filcams CGL molte avranno stipendi dimezzati oggi sit-in dell'USB davanti alla sede dell'Inps 200 euro ritirati dalle buste paga sono categorie di lavoratori queste sempre abbastanza colpite esatto, svantaggiate per vari motivi sia per la precarietà cronica della loro posizione sia anche perché comunque i salari sono assolutamente esigui non va bene perché appunto la scuola ormai è rimasto praticamente l'unico baluardo ed anche diciamo l'unico sistema di welfare per le famiglie, per i veri genitori un aiuto concreto e andrebbe supportato insomma con altri strumenti invibrata il Grillo chiede al Comune un risarcimento di 28 milioni Marti è insicuro, la società del centro commerciale quantifica i danni per la vicenda dei permessi entro Natale farà ricorso al TAR contro l'ordinanza di demolizione di alcune parti della struttura nella vicina Tortoreto come abbiamo visto dalla provincia sia al piano regolatore il documento sarà portato in consiglio comunale il 30 per l'ultimo voto andiamo avanti velocemente interiamo in prima Giulia Nova multe, l'introito previsto sale del 20% secondo la polizia municipale il Comune nel 2020 dovrebbe incassare 390 mila euro contro i 320 mila di quest'anno buon per le casse comunali, meno per i multati ovviamente il comandante della municipale Roberto Iustini dice l'autovelox è diventato inefficace stiamo studiando nuove strategie ovviamente le sanzioni dal codice della strada per i comuni sono un grosso introito penso uno dei pochi rimasti tra l'altro per gli enti locali Roseto, eccoci a Roseto ricordiamo che Marianna come diciamo è addetto stampa del Comune di Roseto quindi segue molto da vicino quotidianamente la realtà rosetana e si parla di viabilità sulle pagine del centro via Mazzola, dietro front, senso unico da sud a nord la decisione otto mesi dopo la prima modifica da oggi la nuova segnaletica lo spiega l'assessore Petrini troppe ripercussioni di traffico sulla statale 150 quella diciamo fu una decisione presa perché insomma si lamentavano ingorghi in entrate e in uscita dalla scuola calcio che c'è lì nelle vicinanze quindi siamo nella zona sud di Roseto qui vicino allo stadio diciamo esatto, il campo Patrizzi ad ogni modo diciamo ci si è resi conto che per evitare gli imbuti nelle due ore di punta però ci si andava troppo a congestionare diciamo per tutta la giornata diciamo il traffico sulla statale 150 e si è insomma l'assessore amministrazione insomma si è ravveduta assolutamente sì altre opere in previsione una delle più importanti per la riqualificazione del centro quella che riguarda via Taulero che sarà tutta pedonalizzata partono i lavori di riqualificazione saranno installate anche le telecamere a proposito di telecamere ne parlavamo prima questo è un intervento particolare subito dopo le vacanze di Natale ha spiegato ieri il sindaco Sabatino di Gironamo durante un incontro con residenti e commercianti dunque partiranno i lavori per la riqualificazione di via Taulero si prevede la conclusione entro Pasqua tempo permettendo sì è un intervento molto sentito e poi insomma a vista che dai progetti cambierà volto insomma quella strada quella via centrale sì è la via della Movida insieme a via Latini quindi si cerca insomma appunto di riqualificarla per darle appunto un volto consono alla vocazione che ormai le appartiene ma ad ogni modo di coniugare la sicurezza perché diciamo l'amministrazione ha già previsto un piano di collocando diciamo 28 telecamere nei punti nevralgici della città e questo ulteriore intervento con i ribassi diciamo si aggiungono nuove telecamere in una via sensibile ma la cosa particolare diciamo apprendevo ieri appunto che ci sarà anche una segnaletica 3D con delle strisce pedonali tridimensionali che danno un effetto ottico per chi ci si avvicina che sembra quasi ci si vada a scontrare contro invece diciamo ha solo un effetto diciamo dissuosore della velocità insomma è un intervento a cui l'amministrazione tenere molto e che sta prendendo insomma volto questi ultimi sgoccioli ovviamente c'è anche la politica perché il roseto tra non molto si torna a votare per le elezioni amministrative il titolo di questo articolo di spalla il centrodestra con Reunito oggi nasce Agenda 2021 è prevista alle 17.30 a Villa Paris questa iniziativa appunto Agenda 2021 organizzata da Fratelli d'Italia alla quale parteciperà anche il presidente della regione Marco Marsilio con i coordinatori dei partiti di centrodestra e ovviamente anche i consiglieri comunali dunque i politici locali di opposizione è evidente che si stanno scaldando i motori alla vigilia delle amministrative del 2021 va detto che diciamo ci sono da una parte e dall'altra punti di forte debbolezza da una parte e dall'altra nel centro-sinistra ovviamente con la nascita di Tagliaviva bisognerà vedere come funzionerà questo matrimonio diciamo di Tagliaviva e degli altri componenti del centro-sinistra bisognerà vedere poi c'è anche l'area comunque del centro diciamo così c'è l'area del centro diciamo ci sono forze civiche che in questo momento insomma hanno un forte dinamismo perché stanno cercando di capire come collocarsi perché se da una parte è vero che il centrodestra, la Lega ha un effetto trascinamento importante a livello nazionale bisogna vedere questo come si tradurrà Roseto perché a Roseto diciamo ci sono forti racerazioni basti pensare al caso diciamo di deputato Bellachioma dell'assessore Fioretti scoppiato con il caso insomma del parentopoli regione ci sono state frizioni ed essendo insomma entrambi rosetani ma diciamo però anche dalle dichiarazioni pubbliche si è visto quanto fossero estremamente divisi bisognerà vedere poi se l'amministrativa e queste divisioni incideranno a favore del centro-sinistra che seppur non gode diciamo di un trend nazionale positivo però ecco è un pochino appare in questo momento un pochino più coeso forse a livello locale vero insomma perché comunque Roseto nel 2021 quindi tra un anno e mezzo circa sarà in provincia di Teramo sicuramente il principale banco di prova da un punto di vista politico vediamo questo messaggio che ci spara subito Pietro buongiorno voglio segnalarvi che non è possibile pagare la bolletta salata del ruzzo che è sproporzionata rispetto a quelle delle bollette della luce e del gas questo nostro telespettatore evidentemente insomma torna a sollevare la problematica della pesantezza della bolletta del ruzzo che sta arrivando in questi giorni nelle case se parla di sproporzioni rispetto a quelle di luce e gas io non sono un esperto di questi temi però sicuramente insomma i motivi sono quelli che abbiamo già illustrato rispetto anche a quanto dichiarato proprio dalla ruzzo dalla ruzzo reti assolutamente sì andiamo a chiudere spostandoci su Silvio e Pineto pendolare in difficoltà fermate le bus da incubo sull'Adriatica quasi ovunque mancano pensiline illuminazione adeguata e tabelle con gli orari a Villa Fumosa niente strisce pedonali c'è dunque una sorta di reportage anche fotografico della situazione delle fermate degli autobus sulla statale 16 che tra l'altro è una statale molto trafficata e quindi c'è anche il pericolo per gli utenti che sostano a bordo strada in attesa degli autobus senza adeguate protezioni questo per quanto riguarda le pagine di Teramo e Provincia del quotidiano il centro prima di andare a chiudere poi daremo uno sguardo velocemente anche allo sport io mi sposterei sulla città andrei a dare un po' di spazio ovviamente anche al quotidiano la città andiamo subito con le notizie principali ovviamente anche la città dà conto della giornata politica in regione Abruzzo quella di ieri con la designazione di Gatti che rischia di arenarsi questo è il titolo Sara Marcozzi solleva il rischio di illegittimità doveva passare attraverso il consiglio regionale ne abbiamo ampiamente parlato invece questo articolo che troviamo oggi appunto proprio sul quotidiano la città con il quale tra l'altro apre il giornale Teramano iniziato il processo all'abbadante violenta la colf straniera immortalata dalle telecamere nascoste dei carabinieri dopo la denuncia dei vicini l'accusa è maltrattamenti aggravati e lesioni le contestazioni nei confronti della 58enne marocchina e purtroppo la vittima è una 92enne dunque una signora assolutamente anziana in difesa in stato di difficoltà vedremo quali saranno le risultanze processuali di questa vicenda sicuramente comunque come abbiamo detto l'importanza della formazione per questo genere di categorie di persone è fondamentale io ricordo che qualche anno fa fu avviato proprio un ciclo di percorsi formativi per badanti avviato dall'ex presidente della casa di riposo de Benedictis Carlo De Santis insomma questi generi di strumenti credo che andrebbero rafforzati visto che sono figure a contatto con insomma le persone più fragili assolutamente sì Regina Margherita il titolo lo abbiamo letto anche in prima pagina tutto fermo il comune ha già ottenuto l'area in concessione dall'ASP ma l'inerzia va avanti da tre mesi in pratica l'area di cui si parla è quella del giardino si legge meglio all'interno dell'articolo il giardino della Regina Margherita che è da appunto su Piazza Dante ma insomma poi non è stato fatto nulla e quindi la situazione è bloccata si parla di inerzia a sollevare il problema tra l'altro del consigliere comunale di Terramo 3.0 Osvaldo di Teodoro vedremo insomma che quella è un'area grande e importante che potrebbe essere sfruttata e valorizzata meglio proseguiamo ancora diversamente spettacolare al comunale l'assessore regionale Fioretti presenta il lancio dell'iniziativa di domani organizzata da Perla e Autismo Abruzzo un'iniziativa di solidarietà presentata ieri in conferenza stampa in comune per quanto riguarda i trasporti bus da lunedì entra in servizio la linea 9 dopo mesi di isolamento per il cantiere Villa Pavone tornerà ad essere collegata con il resto della città quindi le novità tanto auspicate volute dal quartiere di Villa Pavone ma anche da chi deve raggiungere il cimitero di Cartecchio soprattutto la popolazione anziana gli utenti comunque del trasporto pubblico che erano rimasti isolati in pratica dei lavori del sottopasso di Villa Pavone in questo modo dovrebbe essere risolta la questione a partire da lunedì prossimo 16 dicembre l'economia Cianciotta al tavolo edilizia del ministero il terramano presidente dell'osservatorio infrastrutture è convocato per discutere il rilancio del settore sempre in prima linea Stefano Cianciotta per quanto riguarda il tema delle infrastrutture e dell'edilizia è un coinvolgimento che immaginiamo molto congeniale visto che il suo nome ricordiamo fu fatto anche di recente come direttore dell'ufficio ricostruzione sembrava insomma che lui fosse tra i papà di ragazzi quindi coinvolto al tavolo edilizia del ministero per proseguire ancora con il titolo che è anche un gioco di parole bufera sul piano neve della provincia nel giorno della prima perturbazione invernale la casa dei comuni denuncia il ritardo nelle procedure di gara ma c'è stata la replica dell'amministrazione siamo assolutamente operativi per le emergenze sia con le nostre squadre sia nel caso ricorrendo alla somma urgenza sperando che non ce ne sia bisogno ovviamente sì c'è grande effervescenza adesso in questa fase diciamo delle opposizioni in provincia che devo dire si stanno facendo un pochino più battagliere quasi un comunicato al giorno diciamo in questo periodo sì era ieri era la presa di posizione d'Italia Viva sui fondi sul ponte sul Vomano sul ponte sul Vomano insomma tanti temi il presidente fosse intervenuto sul problema del sequestro dei viadotti che però insomma sembra come dicono le posizioni non fosse non sia di sua competenza quando invece sono di competenza assolutamente il ponte ciclopedonale il ponte sul Vomano insomma e il piano neve assolutamente sì vibrata via libera al nuovo PRG di Tortoreto che della provincia ora manca solo l'approvazione del consiglio comunale il commento del sindaco Piccioni lasciamo lo spazio agli investimenti senza sacrificare l'ambiente e il nostro territorio nel taglio basso i sindaci della Val Vibretta si uniscono per tutelare la casa di riposo gli amministratori si sono incontrati ieri nella sede dell'Unione dei Comuni per affrontare il caso Campanini cioè la casa di riposo di Sant'Omero che tra l'altro ieri è stata al centro anche di un'interrogazione del consigliere regionale Dino Pepe appunto durante l'assise regionale Giulia Nova bilancio chiuso entro il 31 dicembre lo dice il sindaco Costantini per la prima volta da anni non si andrà in esercizio provvisorio per quanto riguarda invece i lavori e gli eventi anche natalizi Costantini insomma come dire puntualizza nessun merito delle passate gestioni soldi e progetti sono frutto del lavoro dell'attuale giunta quindi assolutamente come dire voglioso di rivendicare il proprio lavoro in questi sei mesi di amministrazione primi sei mesi di amministrazione di Van Costantini insomma giovane che giustamente rivendica la sua effervescenza a Roseto si parla anche sulla città dei lavori in Vetaulero che partono subito dopo Natale l'amministrazione presenta ai commercianti il progetto di restyling della zona della Movida e viene segnalato appunto quello che ci dicevi tu prima Marianna segnaletica in 3D per gli attraversamenti pedonali e nuove telecamere per la videosorveglianza per quella che è una delle vie principali del centro di Roseto invertito il senso unico di marcia lungo via Mazzola come abbiamo già letto anche sul centro viabilità rivista per evitare che il traffico si concentri troppo lungo la statale 150 e infine un riconoscimento il premio Rosetano dell'anno che è stato assegnato al coro polifonico Ars Vocalis dunque anche l'associazionismo rosetano molto attivo che è stato concesso anche dal sindaco di recente insomma è un coro che rappresenta fortemente identitario della città di Roseto che ha avuto insomma un riconoscimento di recente anche dal sindaco e dall'amministrazione tutta e sempre per quanto riguarda la politica rosetana anticipavamo appunto il tema il centrodestra si ricompatta ufficialmente Marcone Pavone e Recchiuti presenti all'incontro di oggi con Marsiglio organizzato da Fratelli d'Italia e qui direttore vorrei fare notare tante notizie in una tante notizie in una sulla foto perché oddio intanto il centrodestra si ricompatta bisognerebbe ragionare quale centrodestra perché mi viene intanto da notare diciamo che nel poi a me viene a pensare che manca ancora un anno e mezzo quindi può succedere ancora di tutto esatto intanto questa politica muore di Fuggi insomma i tempi sono estremamente lunghi diciamo in questa fase poi c'è da notare centrodestra si ricompatta ufficialmente quale centrodestra chi c'è in queste foto intanto i consiglieri Marcone Pavone e Recchiuti sembra quasi scomparsa dal panorama rosetano oppure se c'è bisognerebbe capire dov'è e dov'è schierata perché comunque mi viene da da notare che tra gli inviti al convegno di Fratelli Italia per Forza Italia figura solo diciamo il sindaco di Atri che insomma certo persona di spicco ma non nel territorio di Roseto non di Roseto quindi diciamo manca come dire una rappresentanza di Forza Italia a Roseto quindi dovrebbe capire se questo diciamo si è estinta Forza Italia a Roseto oppure se c'è dove è collocata noto ad esempio che diciamo c'è il consigliere Angelo Marcone che si era posto in chiave civica che adesso insomma come dire adesso è connotato ufficialmente con il centrodestra mentre diciamo prima era esclusivamente diciamo i civici sottanegliani erano connettati da un civismo insomma duro e puro mi sembra di intuire adesso che c'è una parte vi ricordiamo che c'era stata la scissione all'interno proprio per come dire motivi di collocazione politica Marcone insomma giovane anche insomma molto effervescente politicamente in opposizione comunque ha scelto ufficialmente il centrodestra noto ad esempio la foto di Agno Pavone che diciamo fino a poche settimane fa sembrava come dire più vicino affiliato diciamo a prese di posizione leghiste evidentemente le ultime frizioni all'interno della Lega Rosetana hanno fatto sì che egli si avvicinasse più alla compagine di Fratelli d'Italia diciamo perché prima insomma una serie di movimenti di caselle recchiuti tutto sommato insomma è rimasto in quell'area c'è Francesco Di Giuseppe visto nella foto che però ecco Fratelli d'Italia è una bella compagina Roseto però non ha diciamo al momento rappresentanza in consiglio comunale per cui bisognerà ecco vedere diciamo come andrà a finire diciamo e poi ripeto già da oggi pomeriggio si ne capisca un po' di più con questo incontro appunto nell'incontro vedo anche che non ci sono i deputati Bellachioma e Fioretti nell'incontro certo c'è Deramo che è il per la Lega perché comunque il coordinatore regionale che è il coordinatore regionale però Roseto ricordo che c'è un deputato c'è il deputato Bellachioma c'è lo stesso regionale Fioretti che diciamo di cui non vettraccia nel comunicato però come dire Bellachioma quella promozione come dire agli organismi nazionali forse è stato un po' allontanato dalle vicende locali bisogna capire quanto è stata una promozione o meno però ecco è significativo questo comunicato di uno spaccato che in realtà diciamo è ancora tutto in divenire e ricordo che diciamo mancano ancora diciamo due esponenti dell'opposizione all'appello che non sono sicuramente del centrodestra ovvero Mario Nunes e Rosaria Ciancaione che sono pezzi dell'opposizione all'attuale amministrazione che bisognerà vedere dove si collocheranno e dunque possiamo dire si apre ufficialmente la corsa diciamo alle amministrative del 2021 vedremo ovviamente poi cosa ci riserverà questo lungo periodo che ci porterà alle elezioni pagina culturale tra l'altro Roseto anche in cultura C'è l'Ommi quella luce da mostra a Pescara le opere dell'artista rosetano e domani Palmerini parla dell'Abruzzo ovviamente sulla dinastia dei Celommi insomma c'è ben poco da dire soltanto da ammirare quindi mostra a Pescara sulle opere di Pasquale Celommi l'intervista che ovviamente vi consiglio di leggere ad Enrica Bonaccorti e a Giancarlo Giannini i due attori e personaggi di cultura ospiti dei Faugni della Notte dei Faugni sabato scorso ad Atri il titolo è Quando Atri si accende di storie e memorie entrambi innamorati della città Ducale colpiti dall'atmosfera che si è vissuta proprio in occasione della Notte dei Faugni poi andremo allo sport successivamente perché siamo in chiusura voglio comunque sfogliare anche le pagine del quotidiano il messaggero andiamo subito sulle pagine di Teramo eccoci qui eccoci qua viabilità Teramo Mare il quarto lotto resta per ora un'incompiuta il focus l'apertura con l'articolo di Maurizio Di Biaggio dedicato al quarto lotto della Teramo Mare che chissà quando insomma sarà realizzato non c'è l'accordo sul completamento ed annuntis bacchetta gli enti locali perso troppo tempo per individuare il tracciato della importante bretella insomma sì c'è una tirata da parte del sottosegretario d'annuntis che parla dei dice colpa dei sindaci delle passate amministrazioni di Roseto e Giulianova che non si sono messi d'accordo e infatti lì si è perso del tempo per individuare il tracciato perché c'è chi lo voleva ovviamente più a servizio del proprio territorio e chi invece più su un altro territorio però i fondi ci sono ma bisognerà vedere appunto quale sarà l'esito di questa importante opera segnalo invece questa questa notizia da Giulianova Mastro Mauro non restituirò nulla il caso è quello delle indennità della passata giunta indennità probabilmente insomma non dovute nei termini in cui sono state ricevute cioè un'indennità superiore a quella che aspettava ai componenti della vecchia amministrazione l'ex sindaco invia una PEC a Palazzo del Popolo dicendo somme ricevute regolarmente non devo ridarle indietro da questa vicenda ho ricevuto un grosso danno d'immagine mi rivolgerò alla magistratura per ottenere un risarcimento insomma passa al contrattacco Francesco Mastromauro l'ex sindaco lo fa ufficialmente con una PEC inviata al comune in cui chiarisce la sua posizione e dice insomma chiaramente sono io che chiederò i danni per il danno d'immagine ricevuto da questa vicenda insomma vedremo quello che accadrà anche da questo punto di vista siamo in chiusura soltanto i titoli flash sullo sport rimaniamo sempre sul messaggero Teramo c'è Galeone a incoraggiare Iaconi visita sorpresa al Bonolis dell'ex allenatore del Pescara sente troppo la partita ma è un grandissimo conoscitore di calcio come pochissimi ne esistono in Italia queste le parole di Giovanni Galeone rivolte ad Andrea Iaconi in serie D c'è la Coppa Italia oggi col Pineto a Tolentino dentro anzi gioca in casa contro il Tolentino dentro Marianeschi a proposito di sport abbiamo anche questo messaggio in chiusura dopo Allegri Gianpaolo e Dimascio mancava Galeone siamo al completo cambiamo i colori ci è rimasto da fare solo quello un messaggio nel quale noto una sottile vena polemica da parte di questo telespettatore evidentemente che non apprezza molto la presenza di questo mondo filo pescarese vicino ai colori biancorossi del Teramo però insomma la presenza di Galeone è una presenza comunque prestigiosa anche per il calcio teramano per il centro sempre pagina sportiva per quanto riguarda il Teramo sempre ovviamente c'è un pezzetto su Galeone però sulle parole dedicate al Pescara questo delfino è indecifrabile invece l'apertura sul Teramo è questa il Teramo segna poco si valuta l'arrivo del bomber a gennaio problemi in attacco sono appena 20 le reti alla vigilia dell'ultima di andata e dunque forse dal mercato bisognerà pescare qualcosa per rinforzare l'attacco ha parlato il giovane Santoro palermitano domenica il Teramo sfida il Catania gli esperti mi aiutano a crescere e poi tanti altri altre notizie sui dilettanti e anche sul basket di casa nostra andiamo a chiudere con lo sport sul quotidiano la città Galeone prova a portare i gol al diavolo visita dell'ex tecnico del Pescara accompagnato al Bonolis da Iaconi servono reti per cambiare marcia e intanto domenica anche contro il Catania tante assenze sicuramente l'Ari squalificato e Magnaghi infortunato verso il forfè anche Cianci qualche speranza di recuperare Cianci chiedevo scusa verso il forfè anche Cristini qualche speranza di recuperare Cianci anche per la panchina è tutto siamo in conclusione con questa corsa finale sullo sport tanti temi affrontati grazie alla presenza di Marianna De Troia con noi questa mattina grazie a voi buon lavoro e buona giornata a presto per quanto riguarda di prima mattina l'appuntamento è fissato come sempre a domani sempre in diretta alle ore 7 con Dorotea Mazzetta grazie per l'attenzione e buona giornata buona giornata grazie a tutti